Grazie a tutti Grazie a tutti La pace sia con voi E' un piacere essere qui Dopo esserci venuto per la visita pastorale A entrare in questa chiesa E ad essere qui con voi Ho sentito le ristauri Chiesa è riconata, bella questa comunità E questo ci aiuta a capire che la chiesa Di pietra è bella Ed è un segno di un'altra chiesa Che è proprio la comunità dei credenti Dei credenti, dei cristiani Che si ritrovano in questo luogo Mentre siamo qui Io voglio di poter celebrare un po' Saluto il signor sindaco Sono contenti di essere più comporti O come il Giorgio Ricordiamo da Gianfragli Che è stato Paolo qui per caso di evitare Ecco, lo ricordiamo in questo momento Di restauro Sembra che funzioni bene E restauro Ecco, come certamente funziona bene Questo di questa chiesa Lo ricordiamo con gratitudine E con affetto E vogliamo celebrare i vetri Santi misteri Per questo riconosciamo I nostri peccati Confesso A me che non è Certo che non parevi Che è molto peccato Di cittadino Signore Dio che potesse abbia Viste ricordi a di voi Per tutti i nostri peccati E ci conduca la vita di terra Amore Signore pietà Signore pietà Cristo Accordi la nostra subita Tu che siedi alla destra della madre Ammi pietà di noi Perché tu sono il Santo Tu sono il Signore Tu sono il Bratissimo Gesù Cristo Con lo Spirito Santo E la gloria del mio Padre Ammi Gloria Gloria In eccessis vero Gloria Gloria In eccessis vero Come lo schiavo sospira l'ombra E come il mercenario lo aspetta il suo salario Così a me sono toccati mesi di illusione E notti di dolore mi sono state assegnate Semicorico dico Quando mi alzerò Una scuola Sono finiti senza speranza Ricordati che un soffio è la mia vita Il mio occhio non rivedrà più il vino Parola di Dio Il mio occhio non rivedrà più i tempi e i tempi e i tempi e i tempi e i tempi Per salvare ad ogni posto da qualcuno Tutto io faccio per il Vangelo Per diventarmi partecipe con loro Parola di Dio Alleluia Potremmo dire Come dice l'angelo di Luca Va a stare a Cafano E qui a Cafano Gesù incontra Conosce, incontra Pietro E' una cosa già particolare che Gesù pega via dalla famiglia di Giuseppe e di Maria in un posto ritirato, tranquillo e va dove c'era gente, dove c'era confusione Cafano è sul mare, o meglio sul lago, lo chiamano mare ed è un luogo dove tanta gente va, tanta gente si incontra e proprio sulla luna del mare Gesù incontrerà Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni Gesù viene, passa dove voi siamo non schiva le nostre situazioni Grazie 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 Grazie